5 sono i casi di violenza di genere verificati a Fano dal personale della Polizia di Stato. I poliziotti hanno proceduto sia penalmente che amministrativamente nei confronti di 5 uomini, tutti italiani residenti a Fano, responsabili 4 casi di maltrattamenti in famiglia, lesioni e altri reati, mentre in un caso di atti persecutori tutti rivolti contro donne. In tutti i casi le continue vessazioni subite da mogli o coniugi o conviventi avevano condotto le vittime ad un livello di esasperazione e disperazione tale da spingerle a presentarsi agli agenti dell'ufficio anticrimine del commissariato fanese. Le indagini hanno evidenziato il clima di assoluta ansia e timore vissuto nella quotidianità delle donne, caratterizzata da continui atteggiamenti, minacce, umiliazioni, privazioni e scatti di ira fino a sfociare in vere e proprie aggressioni fisiche e in un caso anche in violenza sessuale. Le indagini hanno condotto il Tribunale di Pesaro ad applicare quattro misure cautelari di cui un divieto di avvicinamento, un allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento, una custodia cautelare in carcere e un allontanamento d'urgenza con custodia in un luogo di cura. Nell'ultimo caso gli elementi scaturiti degli accertamenti degli agenti, consistenti in pedinamenti e offese vissute da una donna in fase di separazione coniugale, hanno portato all'emissione del provvedimento amministrativo che impone all'autore di tali atti di tenere una condotta conforme alla legge, prevedendo in caso contrario la denuncia ad ufficio per il reato di atti persecutori.